Hi! My name is BAM BAM BAM! Mentre Bove è nato jungle con il personaggio più strano che possa andare jungle, Darius. Mentre Mark è l'unico apparentemente normale. Apparentemente voi! Ma i Shave Up fanno pietà! Non mi spiego Feed Sticks Mid con Exhaust. Cosa? Feed Sticks? Ma dove va Feed? Mid. Mid. Contro Valadimir pronzo, uno con la skin leggendaria. GGVP. VALADIMIR! VALADIMIR, sì. Sul VLADIMIR! Sul VLADIMIR! Ma vedi, mi sa che hai un po' perso. Aspetta, in bot che ho? Draven, eh? Chi ha support? Non lo so! Non ne hanno! Quale support? Ma voi se ci troviamo NasusBot io vado in TrioMid, non me ne frega niente! Tranquillo che io ho il PermoSlow. Verrà per te che ci sia ZedBot! Cioè, Nasus è slow a me e io slow a lui, tranquillo. Aspetta un secondo! No, aspetta! Ah, gli avviso, se Maka sbaglia un grab, e per qualche motivo, grabba i nemico mentre io sto per morire e mi fa morire, oltre ad essere perma bannato dal gioco, gli faccio rifondare Blitzcrank e la skin. La skin non posso affrontarla, è un regalo. Si, si puoi, puoi. Ci vedete che puoi. No, non si può. E io c'ho Facebook, la carta, che mi rispamando di rumorini, porca cuntana! Di che minchia start di disto spigato, vabbè, andiamo a dire, macete e quattro forze. Macete, perché quattro, scusa. C'è l'altra la prendo di mano. Pove sei a me? Madonna. Ah, avete visto il bellissimo tasto del undo? Per quando sei allo shop undo, undo, vabbè. Ando questo qui, questo qui, bellino, coccoloso tastino bello, carino. Ok. Eh? So davvero pullando il blu a un Darius. Che perfino una poca del mano. No, la cosa è che metto medium graphic. Si, va bene. Con l'anti-aliasing che non cambia un beneamato cazzo, ma va bene uguale. Si cambia levi bordi. Non cambia niente. No, Maury, non cambia niente. Si cambia. Non cambia. C'è levi bordi di cosa che... C'è il bord del monitor. Lo svolto. Che c'hai? Sto svolgando. Vuoi una mazzetta su per il culo? quanta 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 di potenza ovviamente welcome to the space jam tanto ma come il banco di dario maurie stai scherzando che accade a fiddle sticks sono per me i daccaro sapete che vi succhiero tutte le kill ma proprio succhiare proprio con la cannuccia così no no guarda io me ne vado e anche la passiva abbiamo vladimir e travel seriamente io devo rottare seriamente vladimir cosa? what the fuck no eh ma questa un attimo cioè so io che cos'è questa partita non mi preoccupare no guardate come l'ha stito bene con il personaggio orribile chiamato asci asci quando la usavi però io dico che è orribile però ci faccio le pente che cos'è no ok 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 a livello 1 si livello 1 problem no se si riava prenda che la livello 1 non vedo perchè non ci riesci tu ok 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 perchè non mi parte smart ok ok vedetelo smarcast lo so l'ho già messo sei lato due lastitte 3 4 lastitte ok va bene maka stronzona hai guardato non lo so non credo no no il double buff più flash flash grab q doppia boom maka 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 ma sei cieco maka? no maka ti report che cosa vuoi fare? sei rimasto fermo per guardarmi in that face e perchè sai perchè? ma mi fa male no non devi non parlarmi non parlarmi ho cambiato la scorsa video e non vedevo dove e tu lo fai mentre siamo va bene si problem potevo farlo solo adesso ho appena sprecato un flash bellissimo e l'exhaust ho appena sprecato su questo ci godo però vabbè no non devi goderci perchè potrebbero servirti lui sono chiara tanto tananana nananana lui sono chiara tanto tananana nananana nananana maka prego grabb ragazzi volete volete vedere tutta la lenta se maka lo grabb si eeeh buonanotte quanto man di quanto l'ho mancato ti dico e quando l'ho mancato maka mi fai che sfidare lo sito motori non hai felato quello se non l'ho fatto oh oh ma a casa è un chiara tanto tananana nananana ma a caso chiara tanto tananana se vieni proprio vicino magari no no ma guarda che dalis giangoli a p no mette tre quattro ho trovato ho trovato ho trovato cazzo io sono commosso oh cazzo ho filato a max aree mossa però non importa ho filato a max aree mossa però non importa ho filato a max aree mossa tranquillo capita anche a me guardalo guardalo guarda li golem se li porta da questo lato qui e se li fa co ma vabbè ma mi faccio fare acce dai golem acce 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 io mi faccio fare acce si chiama acce basta con la frutta no no lui si fa fare il succo ma il succo alla alla pera slam dunque what's up what's up slam dunk what's up slam dunk what's up what's up what's up ok lo sto aspettando se che dici lo grab no se lo grab lo uccidi 2 grab di seguito sarebbe no un miracolo BAM IN THE FACE sono commosso per 3 ve l'ho detto che quando c'ho la grafica la grafica a medio mi vanno bene gli fps senti le scuse di maca trovo ancora very high ora la nuova scusa non ha il lag è il lag di fps perfino la grafica influisce perfino la grafica influisce si va bene qui si maca hai ragione aspetta 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 che sono troppi minion ho ancora barriere flash quindi ragazzi ma io non gank da nessuna parte sono tutti pushati come lo schifo cioè di occhio smettete di spingere fallo maca e poi fallo aspetta si va ho fatti vedere 3 3 3 3 3 3 3 3 e non se ne fanno eh non se ne fanno ciao 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 8 5 5 5 5 5 5 6 9 9 9 10 10 10 10 vado a vingare io non sono stato nel comini ma non è un dato problematica no se ti dà l'ambiente ma io devo fare ma l'amore passi un capo a sta ad us se me la ciucci se me la teglia non però te la fai questo lo fai ma un paio per te rete ma per me non ci arrivo con roba c'è non è capo ecco un pochetto al bravo a voi che ti pensi anche la mamma perchè con un piatto ti giuro ciò che è quella che si mette la testa per mettere la porta a essi se ne frega ma per un controllo la c'è sempre sono costa mano ma cosa lei non essere la te e le mie mamma mia di quanto l'ha mancato l'ommetto c'è di quale questo non lo vengono ma solo per si sono vera era un grande domani lì per destra si 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 il salvato di random cliccata se si fa 3 2 1 che lo credo di nuovo secondo me per me questo video qua parecchie minuto verso sinistra un po' verso il basso vecchie c'è no 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 però per quanto sul sicuro ma è tranquillo vai c'era tanta gente c'era tanta gente con un euro in mano con un euro in mano la mia storia non lo facevo è quello che ho il barrio arrivo a voto il nuovo minchia si stanno visitando male ahahah che cazzo ne frega arrivo a quando vado di finale così cattiva o anche la finale no 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 tu sei la finale io lo grabo e poi sarò in e poi si inculano vignati no venite 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 ragazzi e perfett per me papa in quel finale ottima di parola che da morte o nota p ma questa capita è passato io mi tempi in barbata aprile e ritirati. Davvero se mi ritiro adesso. Sono due e due. Sto solo finale. È tutto colpa di Macca, basta. Non è colpa di Macca. È colpa mia se fai lì in la finale. Sì. Io c'ho un'elica in testa. Ma fin i testi che va di blu, sì. Va di giù, va di mana. Vole, go to blu. Vole che ha scritto bene. Vole che ha scritto UFAST. No. No. Mi prendi per il chulo. Why you do this? I don't need. I don't need. Ah va bene. Why you do this? Pover, posso prenderlo? Io ho il blu. No. No. Che ragi? Me lo prendi io. Ma sei stront. Ma sei stront. Da me mica è stront. Ah. Piddleg. Grappa. Macca. Blu. Banna in the face. Slow. Daniello giucciare. Ma che ti prego noto cammino. Non fare com'è lì, che ti prego. Banna, the word in your face. The word in your face. Word in your face. Sì pronto a grabare anche lui? Sì, mi basta il mana, sì. Vi avviso, lancio questo grabber e non posso fare il knock-up. Il knock-up, va bene. Esatto, quello lì. Ah, gay. Ehi, gay. Avviso ai tutti i telespettatori. Niente, ciao. Pover, commenta così a random, boh. Non so più dove pensare. Grappa. Problemi? Sì. Ma che cazzo la cazzo? Quello usa i cheat. Mi faccio le berserker su Darius, ciao. Banna in the face. Ragazzi, io mi faccio le berserker su Darius. Vedi percati, avevo chiesto al blu. Guarda il mio mana. Vaffanculo. Ma muori! Appunto, secondo te, perché cosa sto beccando? Ho cannato, madonna non riesco ad azzecare i... Vladimir ha wordato. Come Vladimir ha wordato? Ah, ha vledato, ha vledato, ha vledato, ha vledato. L'ho appena visto. Alalala, lo ho combattuto. Forta cosa. Ti bastano le word. Non mi bastano. No, aspetta, non mi bastano. Non mi bastano. Adesso bastano. No, non bastano, non bastano. Devi prendere la pink! Appunto, secondo te, quante ne ho prese pink? Due! Solo. Mi bastano due pink, non avevo gold! Eh, mettila! Così vengo! E' un attimo che c'hai... Oh, c'è Draven nel fiume, c'è Draven nel fiume, vabbè va a far quello, io mi... 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 Cazzo si chiama. Grabalo! Non ti preoccupare. Re. Punto. Ehi! Non giuciammela, non giuciammela, non giuciammela. Eh, però basta che già la fai. Perché hai usato la finale? Lo uccidevi comunque. Non ero sicuro. Hai usato la finale davvero? La finale in the face. Hai usato la finale davvero? Eh, 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 eh. Aiuto, ragazzi, aiuto, non me ne ero accorto, ragazzi! Sì, io non ci vengo, dai. Eh, papà, giù! Dieni in cui tu, sto stronzo. Maka, 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 maka. Lancerò il grab! Come no? Beh, bravo. Mi faccio il landuino. Randuino? Eh, la bella, chi si deve prendere? Mi idrino, mi faccio lì troppo un paio. Allora, una. Non ti cambi il minion. Non ti sto toccando il minion! No, per sicurezza. Che palle che sei, però. Zitto. Adesso. Oh, vieni, stai facendo il drago, Mauri. Eh, no. Arriva la Draven. No Draven, scherzavo, Draven. E viene da me, infatti. Ah, appunto. E allora... Di grepe. Cos'è viene fatto? Cos'è viene fatto? Di ostini. Escaping. Lo vuoi parte? Voi parte lo Draven. No, no, mano. Seriosi, no, mano. C'era tanta gente, c'era tanta gente con due euro e mano. Non lo vuoi fare con lo? Va.. Hă.. Ha scoparsi n-as-o Sさ-s-e-u n-as-o Come fao ? Con né ondato però ? Con quel naso però ? Ha non Lazzuzzo a man�를 akuar'de. No, genio è vero ? Maurea mio hoicotavo URI evidence giocousse qui nato spiega e il pc. ma stai zitto ma stai zitto il mio cane mi ha ucciso davvero r ho visto la morte di buoni diretti a quattro il rambo e l'ambolino tananana rambo si sto male oggi e più dal solito dai dai muoviti 375 le pittà fratello oddio quella finale il paolo anno non per fare no 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 maurì seriamente perchè questo paladina leggendaria no 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 maca no cosa vuoi? no 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 l'SS è testa di cacchio la vostra botte è top SS ma non è vero si sei contenta adesso? non toccarmi i minion è la passiva della ultima no hai dato un pugno hai dato un pugno gli hai dato un pugno hai schiaffeggiato i minion e se ne potenze e se ne potenze cazzo di buttale finale eh si che buttale finata si vai alcuna matata perchè me la tanco io non te non lo so alcuna matata la buttale finata facciamo sto toro veloce e la puttana di naiv vieni qui arriva il bot vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui puttana vieni qui vieni qui vieni qui no 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 rimane lì rimane lì cazzo il danno che fa arriva quella bastardona di ev bot hai calma ok stai male a carriere smontizzi accadali se anna a a a a oddio aiuto vuole vuole a a a guardare che rimangono famigliati ambushed non ho soldi per le cose che è morto fintestics o che non morire anche te per favore no io non muoro c'è il blu c'è il blu fattatank il flash più buttato che abbia mai visto giucamelo io aspetto i miei money in base ma fai la giungla bove guarda che direi bene in giungla sai che ti uccidono adesso sono tutti qua mi grabassero grabatemi pezzi di me non hanno grappoli ok ho infiniti vengo madonna manca grabato manca grabato che è questo che è scomparso dopo delle deletato chi è morto no aspetta aspetta ma lei chi è morto graven tremen traven travenino mio oh tu sei muoro muoro ma io mi posso fare le berserker su darius se ti fai full a dc è brutta ma si no non mi voglio fare le berserker lecce 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 la volle di athrox eh sì di athrox di athrox di athrox di athrox di athrox forse mi faccio mezzo a mezzo vieni qui eh ti piacerebbe ma che ti piacerebbe suuuu suuuu oddio il backdoor il backdoor bot c'è un backdoor da fermare tu sotto io sopra ecco no oddio e quanto su ultima ha provato non mi uccidi non mi uccidi con quella merdetta finale traver no ci hai provato no arrivo 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 cagnone madonna macca ma che cazzo è però vai fiddle vai fiddle bella finale bella finale nonno ma datemi una f no datemi una m datemi una c datemi 3 l mclll che cazzo bobe c'era qualcosa nel caffellate stamattina sono sconvolto no sai come mi sono svegliato alle 6 e mezza per fare quel cazzo di recupero di merda Diché cosa inglese che poi potevo anche non svegliarmi perché la propria mi suggeriva tutto di okane in realtà bobe ho comporre di professori maurii mi faccio prima la Aegis o che cosa mi faccio prima la Aegis o la sunfire eeehhh cosa vuoi vedere ero ma egizia ciò finisci di del fruto merce no il vino nonno non lo finisco non mi stai sul cazzo non me lo finisco per così si fa siamo 14 11 per cosa si fa quando mi fai sempre io l'armonia dell'armo a fare loro dovere il testo fk vabbè bello è un buon punto per andare a fk si muove si muove perché adesso ti sei contestato a fk cazzo maurina che non ti muovi si hanno cambiato questo indica che almeno un fk in rank ed ci sta in ogni rank ed sicuramente quanto su piano male quanto su piano male tanto non lo grabbo perchè guarda la propria gente c'era guarda mi faccia non c'è il mio amore suonito maurina non c'è molta 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 aaaah poveri sei sforzata come in back door o pay bot aspetta non c'è l'oro rosso drago drago uso flash io flash vai flash io grabo il drago non c'è l'oro arrivo 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 bravo bravo bello via che cavolo manca la lascia nooo aaaah ho sbagliato a fare la finale su cosa devo farla su draven vabbè dravenosidra aaaah oddio bove dravenosidra 123 HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA EHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH sto muoro male io poveroso ma da me cazzo no va fanno bove che grabbar fa la cue istantanea no io faccio q e w istantanea corri KULO non copierai le battute di Bove lo so, è il copywriter di Bove copy-league-te quelle y-non oh, Bove, meno male che fidassi che si diceva che non gli serviva, guarda meno male che non gli serviva io glielo grabbo, glielo stillo il flash sulla bocca no, va a qualcuno se lo facevi ti stimavo davvero guarda, guarda, guarda uso il dravenus hydra si fotte dravenus davvero oh mio dio non mi sono fatto e devi dire anche dravenus si, ma ne son fatto mamre, se vuoi ingaggio maurizio cazzo è fortifo, cazzo grabbalo oh dio è esploso quanto oscura maurizio gamer dat maurizio, ifs dat maurizio datemi una i, datemi una f, datemi una s infemus warriors si è spostato tutto io mi immagino la casa di Bove tipo, un letta maio con i Bove che... oh mio dio oh mio dio oh mio dio il testo esplode ma che è stato da a e il tutto l'ho usato la finale io schegnavo a me la tua tutto chiamano tutto se comunque mi sono fatti il dravenus idra oddio cd acca pure che aspetta per fare la finale bellissimo a e volevo andare in positi con quale posso guardare a cari more amore dai ma scusa mai 10 kg di obama sono poche e se vuoi fare che sia un'altra parte il tuo sepperti mi fai piuttosto notte l di che notte la faccia la gara xd ho visto che la mia ok ma faccio i sali miniatta eveline le pezzettoni di merda Maca, 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 uccidiamo No, che no Vieni qui Che cazzo fa Maca? Fa Maca Mio Dio No, più che altro non sarebbe legito dire cosa fa Mauri con quella finale Ho mancato perfino Perfino la V2 ho mancato Poi ti lamenti che io sbaglio le grab Zitto Sei ancora più grave tu che sbagli le finali Zitto CTFU E mi faccio la black hair su Darius Ma come 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 No, mancato Tu tu corri e davvero dietro Andiamo a andare a stile Ok, io poi i tuoi puoi te Guarda là, one shot alla gente Gli fa sparire Eh vabbè Siamo come le cucciano però E tutti Esseremo molto abituati mario immagino in realtà è qualcosa di magnifico sulle voci in capitolo se ti copro le importanti che dico topeccato lei il signor maurizio è uno sfrenato eo propriamente spese apparecchio che c'è? il sultare alla grande? guarda questa ma che mi spaventava? vieni qui vai maca su tre neanche uno erano tutti lì in fila erano in fila lì dettagli allo sbagliato millimetricamente sì certo era sbagliato millimetricamente due e due millimetri dai sbagli eh appunto sono un po' falsati come in the face of minion bam guarda per un attimo ho pensato che l'avessi grabato anche io c'è rosso hai la passiva se me la ciucci bam c'è suca 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 ma c'è ti grabi eh sì ti grabi ti tanki la torretta ti grabi la torre sposta la torretta se vuoi grabbo la torretta guarda che c'è gente qua la torre non mi frega un cazzo vieni qui grabalo oh mio dio mamma mia oh mio dio io ho spommato tutto e non lo beccato il grado pro maca l'ha fatto ho gli occhi che lampeggiano oh guarda damage vieni qui the damage the damage badabum 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 aiuto aiuto oddio a carica paraclitz in sepparaclitz paraclitz badabum se io ho chiamato si chiama tutta 4.000 soldi davvero davvero io ho preso assist as assist perchè ma vabbè ehm let's whisper ok dopo questo schifo di chat a calimone mettio mettio, the burst damage il burst damage ammettilo che abrizzolo sa usare meglio di trash sicuramente se questo lo devo dire video con marca che usa trash non li ho fatti, non credo comunque, meno male che non l'avete visto siete fortunati io segnalo la quantità di million con le iconcine dei dollari più million ci sono più iconcine metto non me ne frega un cazzo io faccio così invece non mi ricordi se vuoi prima da fare il drago tu coso lampeggiante della polizia vieni con me che signor ti arresto ti devo arrestare io a colpiti a colpiti e io aiutate a far fuori i tuoi come no no ahi facciamo il drago e arriviamo si può smitalo bovee altrimenti ci mettiamo troppo stanno arrivando da voi mi sa smitalo 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 eh infatti ah ok vieni qui oh vieni qui no no io vado fk ahahah ahahah non ci arriva mauri seriamente sei sotto a torre lo so mauri succhiato io so che furbissimo però mauri succhiato mauri lo prende in chiuso mauri lo prende in chiuso mauri lo prende in chiuso con tanta forza eh bradymich e backdoor best backdoor ever e qua un bradymich e backdoor non l'ho mai visto ma quanto cazzo recuperano tutti e due eh ehi perma slow perma slow ops chi l'ha fatto? ovviamente lei ehi draven manca i tanki da torre io non abbiamo l'avanzata poi a me certo ho poco mano però ti avviso vai vai stai arrivando te l'event ragazzi ragazzi stai arrivando lei ragazzi stai arrivando ma ragazzi maca muore adesso no? non trattate così bovino ss maca è morto maca è morto maca è morto ragazzi maca è morto maca è morto ma nana 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 ne basta la pena non dirmi che è cresciato che non ho fatto l'autore non dirmi che è cresciato perché mi metto ridere con un posto non ho lasciato presto prima per prendere eppri io ti ho ho preso per il mio prezzo e la tante si è fatta doppia cioè ragazzi direi con questa ultima mi fa cagare vediamolo che cosa è meca plastoi se non è nemmeno balcino e se mamma mia cosa stai dicendo? l'ha vista l'immagine di mega plastoi che schifo è ma dove? il pokemon si ma chi se ne frega si chiama sensero? non lo so io sto guardando anche facebook nel mentre che gioco perchè quello lì si chiama sensero? chi? sani ros sani ros si chiama ah giusto ma sensero si chiama sani ros no sensero ma si chiama sensero sensero vuoi me ne grabbi uno che te lo cechina vuoi me ne grabbi se no quattro tre due uno e aspetta voglio andare sul sicuro cazzo si riusciate a fare qualcosa e io non ce lo prendo non li prendo fai cagare ora li prendi ora li prendi uno spagnolo lì in mezzo il grabb uno lo prendi dio porco non c'è mica tutto quel range che pensi vede 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 gra perché vai via maka mi pare ma dai ma che pucca il pericolo è tutto mezz'ora per farlo e alla fine che abbia un minimo e di chiudese anche ha mamma in da pace sono morto per sette me li faccio tutti i mercato tutti mi pare di pericoli ma dove c'è la torta No, fate questa, fate questa, fate questa, fate questa, fate questa Me la ganko io, me la ganko io, vai Me la ganko io, hai ragione Me la ganko io, la torri, io ganko le torri I ganky, i ganky drake Dai, 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 crepa ancora, dai, crepa ancora Crepa ancora? No La drake no sidra Vieni qui Che cazzo fa sotto torre, quell'altro, perché è finito, ma Oddio, è vivo Guarda la vita, guarda la vita Guarda la vita Vabbè, ma quello scuola Aspettatemi Lo scuola, no, no Non finitela ancora, distruggiamo tutto Eh, sono un cattore baron Quanto c'è, che c'è qui Ma ragazzi, aspettate un'altra Mi stavo divertendo, dai Tu, succhiacchiera Nasus, you are full HP and run and remember, da 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 Va fa L2P, L2P PDP PITSUPAI Mi scuglio tra Pikachu e PewDiePie Sì Venite a fare il baron No Mi sembra, ovvio che no Vai Sì Pinghiamo E ballo Baron Venga 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 Sto arrivando In tre lo facciamo, dai Chi se ne frega Chi se ne frega Chi se ne fotte Guardate il mio Leaf Style Il Rocket l'ho privato io Guardate il mio Leaf Style La foto manca, non vale Chi se ne fotte, l'ho fatto di passiva di ulti Fado di spawnare e lo rifacciamo adesso Ti ho usato anche Smith Un attimo che mi faccio il Quartier Ninja e finisco la build No 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 Ma che ne dite Me la faccio una Hydra Famerica nostro Scherzando Una Infinity Ma sì dai Un attimo Facciamo il sì Siete pronti al cechinaggio? Al cechinaggio più totale Siete pronti? Tanto non lo prendi No ma Mauri tanto non lo prendi Ha recuperato la vita Ma dov'è? Opie Minion Vuoi rifammi l'uomo un guardo? Oddio ma li scende la visiera del casco a Blitzcrank di Riot quando Help! 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 I died! Mauri Si è morto Ma dove cazzo? Mauri guarda la visiera del casco di Riot Blitzcrank quando usa la W Ci abbassa? Sì Che figata Voi guardami adesso Perché hai 40p? Ah il Baron Guarda quanti buffo Non chiedermi perché ho 40p Sarà il Baron Madonna bestia Aspetta che mi compro Anch'io ho 40p Eeeh mi piacciono 40p Una borbona che corre Sì vabbè quello lì schizza Quello schizza Quello schizza Ah perché gli schizza ti fanno così? Quel rumore è lo stesso che faccio quando ho una scorreggia affronta da 5 minuti E' qualcosa tipo questo Bravo dillo su Youtube Così Dillo su Youtube così tutti lo sanno vai Sì lo sanno tutti Questa carica non sta benissimo Dai inibitori Perché noi siamo Perché noi stiamo bene Tu no Vieni qui Vieni Ma Sei morto Sei morto Sto strompa Aspetta che gli trovai Anche lei signore Vieni qui Oddio Oddio Tu chiammelo tutto per bene Talala Ho tirato un critico ed è morto Io gli ho tirato il grab mentre stava correndo in tiden Terιο Oddio 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 Finite da veloci No Bene ragazzi il video è finito Lasciate un like Commentate Iscrivetevi Ci vediamo ad un prossimo video